ciao a tutti ragazzi ragazze e ragazzuoli stiamo parcheggiando stiamo giù napoli nuovo work work si andando a lavoro da serena nardi la mia modella amica per quanto riguarda il trucco sì perché oggi domenica ultimo giorno di ultimo giorno di di aprile andare poi dopo a fare delle interviste per quando riguarda un cortometraggio sì la mia macchina va sempre scherzi vabbè ok si si è fermato abbiamo messo il freno a mano dove sotto si deve prendere la borsa il beauty e scendiamo monetine non c'è nessuno ne porta monetine mi dimentico qualcosa non mi dimentico niente io vi saluto ciao arrivederci alla prossima ciao baci baci